ciao a tutti e oggi andiamo a vedere come installare l'emolatore jutsu l'emolatore come ben saprete permettono di giocare i titoli di un'altra piattaforma direttamente sul nostro pc a differenza di quanto si possa pensare è giusto sapere che si tratta di un software perfettamente legale ovviamente finché non si andranno a scaricare giochi piratati o craccati quindi se andiamo a acquistare i nostri giochi possiamo tranquillamente utilizzare l'emolatore oggi in particolar modo parlerò dell'emolatore di jutsu cioè un emolatore in grado di far funzionare i giochi del più ricente nintendo switch sul vostro pc ora vediamo come andare ad installarlo iniziamo quindi a scaricare il programma su questa pagina fate il download e naturalmente proseguite poi con l'installazione senza dover modificare le spunte predefinite il link lo metterò in descrizione all'apertura si evidenzerà un messaggio che avvisa di alcuni file mancanti per il corretto funzionamento quindi dovete andarli a scaricare al seguente link che metterò sempre in descrizione una volta scaricato estraete dalla cartella compressa content e case dopo andate nella barra di ricerca windows e digitate il seguente comando quindi abbiamo scaricato il file rar ora andiamo a scompattare e poi andremo a vedere al suo interno cosa contiene quindi come potete notare ha le due cartelle contents e case dunque come avevo detto prima a questo punto andiamo a scrivere nella barra di ricerca la seguente stringa la scrivo qui direttamente sul video dopo di che facciamo invio ora torniamo indietro alle nostre cartelle precedentemente scaricate e andiamo a copiare la cartella case possiamo copiare o addirittura a trascinare direttamente nella cartella jutsu quindi ora andiamo a copiare o trascinare la cartella contest questa andrà inserita copiata oppure trascinata nella cartella sempre jutsu ma questa volta nel nand system e andiamo a sovrascrivere c'è da dire che ci possono trovare due tipi di estensione per quanto riguarda i giochi e sono punto xci e punto nsp questo xci e la copia esatta della cartuccia originale del gioco estratta direttamente dall'installazione su memoria interna o sd card l'estensione nsp risulta essere la migliore in quanto si tratta di giochi scaricati direttamente da e shop come detto prima non dirò in alcun modo come scaricare i giochi piratati ho soltanto semplicemente spiegato come andare installare l'emulatore grazie per aver visto questo video come sempre vi invito a mettere un bel mi piace a commentare se qualcosa non è chiaro e naturalmente a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto ciao e alla prossima ciao 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 ciao